Ciao a tutti, allora mi scuso in anticipo il video è uscito diciamo un po' troppo tardi tra virgolette rispetto alla partita ma diciamo io non l'ho vista come credo tanti di voi diciamo in diretta perchè alle 6 e mezza ero a lavoro quindi di conseguenza poi l'ho dovuto registrare di conseguenza ancora me la sono vista poi tra virgolette con calma quando sono tornato a lavoro quindi dopo scena e poi chiaramente non ho potuto fare il video diciamo notturna perchè non era il caso quindi ho preferito aspettare e farlo poco con calma la mattina ovvero oggi il giorno in cui esce il video comunque parliamo della partita allora diciamo che a parer mia è una parità un po' strana a commentare perchè oltre a dire che ci sono successe le verate cose che hanno determinato il risultato in primis secondo me ehm le decisioni ante dubbi decisioni arbitrali ma non solo e quindi in primis attacco anche la prestazione della squadra diciamo che appunto la partita non è stata diciamo ehm giocata secondo me ehm con gli stessi ritmi ecco ci sono stati svariati cambiamenti che rendono sinceramente mi rendono un po' complicato il commento ma non tanto per le idee ma per cercare di ehm farvi capire appieno cosa voglio intendere comunque ci provo e speriamo bene allora partiamo dalla prestazione di Livorno sui dubbi arbitrali ci arriveremo poi dopo allora questo c'è da dire allora se uno mi dicessi il Livorno secondo te ha giocato bene io direi no ma di conseguenza non ha giocato nemmeno male allora cos'è che salve e cos'è che non salve la prestazione di Livorno allora eh salvo il fatto che l'impegno ce l'ha messo perché effettivamente i giocatori nonostante tutta la condizione fisica di quando arrivi a fine anno mettici la pressione mettici che ne so boh anche il card perché comunque che se sono giocatori eh non è che loro non lo sentono cioè non lo sentono in conseguenza diventerò anche molto più affannose questa serie diciamo questa serie le salve che il Livorno l'impegno in primis ce l'ha messo il problema e quindi cosa che non salvo è che il Livorno si ok correva bene o male chi più chi meno ma diciamo non dia voto ma senza uno scopo ben preciso perché comunque ieri si è visto praticamente che il Livorno non c'è gioco e di conseguenza io fatemelo dire se ieri con tutto il rispetto a Parigiana se la Regiana avesse giocato contro una squadra che qualitativamente a livello di gioco è più forte e ieri magari riusciva appunto a far vedere il proprio gioco la Regiana ieri le prendeva un ballina perché con tutto il rispetto come dico del Livorno stesso non mi sembra che la grande squadra e ripeto anche il Livorno scheggiò sì non mi sembra questa grande squadra quindi quello che dico è che il Livorno in impegno ce l'ha messo però non c'è gioco ancora una volta e di conseguenza si è visto perché appunto se avesse avuto un po' di gioco e avesse avuto comunque anche non tanti però qualche giocatore veramente determinante soprattutto in fase d'attacco anche se l'attacco ieri sì ok non è che abbia fatto chissà cosa ci mancherebbe però diciamo di per sé rispetto soprattutto alla partita precedente qualcosina ha fatto ma di qualcosina qualcosina comunque il Livorno probabilmente avrebbe fatto una partita diversa e molto probabilmente l'avrebbe vinta quindi ok va bene l'impegno a meno velo c'è stato a differenza appunto della partita precedente ma se si mette l'impegno se si corre tra virgolette a vuoto ovvero boom non so poi una parte tutta una parte poi un'altra parte tutta una parte cioè ok io personalmente l'apprezzo ma se non c'è gioco poi di quando prendi palla perché poi perdi palla in maniera stupida i classici passaggini di due metri sbagliati in maniera elementare cioè no no non devi correre ci mancherebbe però appunto quello che fai sembra che sia stato fatto inutilmente cioè come ho detto tra virgolette sembrano chiamano avversi a voto quindi nel quanto riguarda la prestazione di Livorno dando un giudizio complessivo sul complesso secondo me il 6 è proprio per l'impegno perché di per sé Livorno a contrario di qualcuno che magari lo ha senso di perché comunque poi dopo la partita magari non lo so a spipolare un po' su internet e a differenza di quello che altri hanno detto secondo me Livorno non ha fatto quella grandissima partita ecco la partita me la devi dare l'altra volta ma niente eccezionale ecco e questo è quanto riguarda la prestazione secondo me spero che abbiate capito il concetto la parola è che ok l'impegno c'è ma manca clamorosamente il gioco non c'è proprio una osa diciamo uno stile ecco poi parliamo invece invece delle decisioni arbitrali che hanno condizionato a parermio parecchia la partita allora lasciamo star fatto che l'arbitro veniva dalla sezione di pisa e quello io non dico niente perché se no posso dire che si cerca di aggrapparsi gli specchi il resto di fatto che non dico che perché veniva dalla sezione di pisa automaticamente allora c'è sfavorito l'arbitro in sé per sé comunque c'è sfavorito parecchio in primis concedendo un rigore molto dubbio alla reggiana fra l'altro va detto che lì Valiana è stato brodo perché anche se socialmente l'ho visto dalla telecamera diciamo lo posso dire ai sport quindi magari non lo so per il mio sembrava che almeno un brisciolo avesse toccato però è stato brodo perché facendo così un giocatore furbo si fa toccare si mette in modo tale da far toccare e andare giù e di conseguenza l'arbitro non giustamente però può cascare nel tranello del giocatore avversario e concedere il rigore infatti è successo questo quindi di per sé è stato brodo Valiani a decide di mettere le gambe e poi di tirarle un pochino e se le metteva a questo punto quindi in primis ci ha sfavorito su questo sabì e poi ci ha sfavorito non dando almeno due rigori evidenti perché veramente sono stati tre almeno quanto riguarda i rigori se non sbaglio tre non di più episodi evidenti che veramente cioè ok una volta per girare le scatole sempre cifo stacche non lo vedi ma già due volte comincia da noi ma tre volte ma poi alcune in maniera plateale tipo secondo me già quella lì di mano poi già il primo quello lì su 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 venitucci cioè per dire alcune due erano plateale secondo me per quello che sono riuscito ripeto a vedere con la la prospettiva chiamamola così telecamera di di sport quindi l'arbitro si è sfavorito a livello poi di comunque stiamo parlando di arbitri di arbitraggio in sé per sé a livello poi di diciamo falli comuni tra virgolette non classici anzi falli classici con gli magari metà giovanè quello l'arbitro meno male si è comportato in ugual modo però per quanto riguarda decisioni importanti come concedere meno rigori cioè clamoroso ma poi fra l'altro loro pronti via sul rigore dubbolo dai a noi tre rigori poco dubbi perché diciamo erano clamorosamente netti secondo me e non lo dico da tifoso Livornese lo dico da spettatore cioè cazzo almeno uno scusate ma almeno uno se nel caso concedi invece comunque altre cose altre cose e mi voglio ralacciare la prestazione Livorno perché sennò poi sbaglio no se ci vuole dire tornando alla prestazione Livorno ecco questo mi sono scordato di dirlo una cosa che mi ha fatto tra virgolette non a ridere ci mancherebbe però che mi ha mi ha un po' stupito è stato il discorso difensivo allora la difesa inizia per sé se si lascia i due gol presi ma come sono venuti fuori è un dio che ha giocato strabene però diciamo in altra parola ha giocato molto peggio quindi la difesa se l'ha abbastanza cavicchiata anche se di per sé la regionale non è che abbia fatto questa cosa perché a parte quei due golle diciamo qualche azione così ma in maniera molto 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 molle diciamo perché la regionale soprattutto per come sono andate poi le cose e per loro quindi si sono ritrovati in vantaggio per ben 2 a 0 giustamente hanno giocato più in maniera difensiva piuttosto che diciamo a viso aperto tra virgolette però di per sé la difesa ieri non si è comportata male l'unica volta che ha fatto e che mi fa ridere questa l'unica volta che ha fatto una dormita diciamo che è sempre addormentata l'hanno subito purgati anche lì c'è anche stato un discorso di sfortuna lo so fa parte delle cose fa parte del gioco e non ci dovrebbe essere però l'unica volta che magari i difensori ha perso l'uomo ci hanno purgato subito io sono d'accordo il calcio è così ma porca miseria ma ti dico che è giusto una volta ci può stare l'errore e che una volta ti faccia un errore e bisogna essere subito purgato di sid porca miseria e cosa mi riferisco mi riferisco a quello di Gasbario che ha lasciato perdere l'uomo cioè diciamo l'ha un po' perso perché ha lasciato perdere e di conseguenza è stato bravo poi l'attaccante di loro o comunque ha giunto loro che non mi ricordo il nome a far gol quindi diciamo oltre a discorso prestazioni decisioni arbitrali c'è anche questo discorso che veramente basta sbagliare una volta soprattutto in difesa t'hanno furgato potremmo sbagliare anche loro non so in quel caso il colpo di testa buttalo fuori no ma la prima volta ti furgano subito perché lì porca miseria è vero che può capitare ma magari dov'è il terzo errore quindi subito vabbè a parte le storie che è un'aggiunta che ho voluto da tanto per essere leggermente più per entrare un po' più nello specifico io ho detto a grandi linee come secondo me della partita so che posso essere in disaccordo magari con alcuni di voi ripeto guardando quello che qualcuno ha scritto o comunque commentato bla 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 su internet spero spero ovviamente di 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 far sì che quello che ho detto l'abbiate capito quindi di essere fatto capire la vedo dubbia perché magari possa essere frainteso eventualmente scusatemi eventualmente provate se non so volete le vacche due a farmi delle domande sotto nei commenti e cercherò magari di rispondere in maniera appropriata se qualcosa non vi è chiaro e niente se qualcuno mi chiedesse Simone sei fiducioso sulla sul ritorno te credi nei passaggi del turno bella domanda non lo so di certo bisogna con i giocatori che abbiamo dovremmo provare nanzitutto a entrare con la mentalità di dire che cerchiamo di andare in semifinale e lottiamo per raggrappare il punteggio in primis poi dobbiamo cercare di comunque avere un po' di gioco perché così era una sacca amorosa cioè magari una tattica e comunque se per sé si risponde con una risposta abbastanza secca a questa domanda io direi beh io sono speranzoso ma non ci credo la speranza c'è però non ci credo perché ripeto per il risultato calcolando che poi gioca fuori casa eh ci sono tante cose che non mi ci fanno credere io ci spero ci spero chiaramente però non ci credo spero veramente che le morne possa sbussardarmi ecco vi ho detto questo ci vediamo domenica se non sbaglio se ce la faccio regola si o comunque magari il lunedì proprio la mattinata con il video che uscirà online nel prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti